Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di set cinematografici. La Valpusteria si appresta a diventare un vero e proprio set cinematografico con le riprese della fiction Un passo dal cielo con Terence Hill e Katia Ricciarelli. Mancano davvero una manciata di ore al via delle riprese in terra altuatesina della serie televisiva Un passo dal cielo che avrà come attori i protagonisti Terence Hill e Katia Ricciarelli e sarà trasmessa sulla RAI nel 2011. E proprio i due attori sono giunti a Bolzano per presentare la nuova fiction nel corso di una conferenza tenutasi a Laurin. Come è sottolineato, il 12 giugno è previsto il primo CHAC e come location è stata scelta la splendida Valpusteria. In particolare saranno il lago di Braies e il centro di San Candido le principali località della fiction. A rendere possibile tutto ciò la Business Location Suttirol che con il reparto creato ad hoc, ovvero la BLS Film Suttirol Alto Adige, punta alla promozione del territorio altoatesino quale ideale location per le produzioni cinematografiche e televisive. Vogliamo poi anche gestire il fondo per dare contributi alle produzioni e infine vogliamo dare assistenza tutto tondo alle truppe, alle produzioni cinematografiche, dalla ricerca della location fino al personale, fino a permessi e così via. Tutto questo lo facciamo, e questo è importante, per creare un plus valore economico, per avere un effetto economico sul nostro territorio. Questo avviene attraverso un meccanismo che significa che se una produzione prende un contributo, questa produzione è obbligata di spendere il contributo intero e anche di più sul territorio. Significa che così si ha un effetto diretto, un sostegno diretto all'economia e si ha, e questo è il nostro intento finale, la possibilità di sviluppare e di incentivare il settore filmatico in Alto Adige. In tutto 12 le puntate che verranno realizzate proprio in Valpusteria ed avranno come protagonisti Terence Hill e Katia Ricciarelli. Io penso che è un'esperienza che mi entusiasma, perché per prima cosa a me piace appunto l'Alto Adige, anche se ci sono molto pochissimo, quindi già stare qui è una grande soddisfazione personale, perché mi sento veramente bene qua. E poi la soddisfazione è anche professionale, perché siamo i primi della televisione italiana che fanno una serie in Alto Adige. Ci voleva coraggio, dobbiamo però ringraziare anche l'Alto Adige, il City Row, che ci sta veramente aiutando a fare questa serie, perché come lei sa, i baci vengono sempre tagliati e i soldi sono sempre di meno, quindi se non ci avessero aiutato non saremmo potuti venire qua. Con un cast così importante e con un Terence Hill che è veramente prestigioso e con un regista come Oldoini, io sono convinta che sarà un bellissimo lavoro. Inoltre ho trovato qui una ospitalità incredibile, un affetto e questo è molto importante, perché noi in fondo siamo dei lavoratori dello spettacolo, anche se siamo dei lavoratori di lusso se vogliamo, però facciamo tanti sacrifici anche per rimanere fuori casa e quindi qui non ci mancherà certo l'affetto della famiglia. Grazie ancora.